Noi siamo molto amici, io mi servo molto spesso di loro Vedrò che ho portato anche mio figlio C'è un figlio? Sì, otto anni, ne aveva proprio bisogno, poverino Scusi, ma proprio una schifezza di famiglia, non ti offenda Ma sono un bambino di otto anni No, no, poveraccio, ne aveva bisogno perché stava combinato mare Gli hanno fatto un bel lavoro però, sì, sì Gli hanno applicato una macchinetta Una macchinetta? Sì, sì, sì Lui aveva un'arcata debole, insomma, per far capirla a lei Non aveva spinta, ecco, non aveva spinta Ho capito Cioè, è un po' come il padre, diciamo Sì, beh, quelle sono cose ereditarie Quando non si ha spinta della nascita, è inutile Eh, bisogna provvedere il tempo Eh, se no, poi alla fine già non c'è la spinta Poi giardinetti, cose, che? Vabbia, ma fa brutto, sembra una bestia Ci tira, eh? Ma scusa, perché ogni volta che ci tira le guardi in bacio a me? Niente perché Perché è una cosa insopportabile È come un fuoco che brucia dentro Mi deve credere Ti affremmo che ci do una statuetta in fronte, ci do, sa? Mi volevo dire, mi deve credere Alle volte, alle volte mi viene la voglia proprio di dire Stroppormelo via con le mani Addirittura Sì, 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 sì Sì, sì, sì Uno strappo Un ultimo guizzo di dolore E poi la pace